Sono 68 i migranti sbarcati nel porto di Santa Maria di Leuca intorno alle 20 e 30 di lunedì 15 luglio. Si tratta di 52 iraniani di cui sei minori accompagnati e 14 irachieni tra i quali due minori. Tutti viaggiavano a bordo di un veliero battente bandiera inglese, individuato intorno alle 14 a circa 30 miglia a sud dalle coste salentine, dal reparto operativo aeronavale di Bari della Guardia di Finanza. L'imbarcazione, scortata da due motovedette delle sezioni operative navali di Otranto e Gallipoli, ha raggiunto il molo del porto salentino in serata, dove ad attendere i migranti c'erano i volontari del Comitato di Lecce della Croce Rossa Italiana. Questi insieme agli operatori del reparto di sanità pubblica e il servizio migrazioni hanno provveduto ad un primo intervento di assistenza dei migranti, con l'ausilio del delegato del Comune Oronzo Papa, dei militari della Guardia di Finanza, dei poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Taurisano e degli uomini della Capitaneria di Porto di Gallipoli. Dopo un primo screening, i migranti sono stati rifocillati con beni di prima necessità, acqua e alimenti dei volontari della Caritas Giocesana, e dopo le operazioni di primo soccorso sono stati trasferiti presso il centro di accoglienza ad Antonino Bello di Otranto. È stato convocato l'intervento del pool Interforze Antimigrazione, coordinato dal GICO del nucleo PEF della Guardia di Finanza, che si occuperà degli accertamenti finalizzati ad individuare eventuali scafisti celatisi tra i migranti, le attenzioni dei militari sono rivolte a due uomini originari dell'Uzbekistan. Le indagini inoltre saranno utili a ricostruire la rotta alla dinamica dell'evento e la località di partenza, anche con l'ausilio di tecnologie di supporto alle investigazioni digitali. L'imbarcazione intanto è stata posta sotto sequestro.